Due persone sono state arrestate per detenzione ai fini di vendita di ingenti quantitativi di cocaina nel corso di un'operazione di controllo fatta dai carabinieri. In particolare i carabinieri della compagnia di Soverato, nel corso di una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un 55enne residente a Centrache, hanno trovato 40 grammi di cocaina suddivisa in due confezioni occultate, rispettivamente sotto il cestino dell'immondizia della cucina e tra la legna accatastata nel giardino di Pertinenza, insieme a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi, oltre a 2.300 euro. I carabinieri della stazione di Davoli poi hanno sottoposto a controllo lungo la strada statale 106 Ionica un'autovettura condotta da un 47enne di Grifalco, trovando in un vano sotto il sedile posteriore un panetto contenente 1.050 kg di cocaina pura, oltre a un coltello a serramanico. I due sono stati portati nella casa circondariale di Catanzaro in attesa dell'udienza di convalida.